Le civiltà dell'Asia Mentre la Chiesa e l'Impero si scontrano per il predominio in Occidente, in Oriente si formano alcuni grandi imperi. I tre rami della mappa ti mostrano cosa succede in tre diverse regioni orientali, procedendo da Est verso Ovest. Anche tu, per rendere più ordinata la tua esposizione, puoi seguire questa sequenza. In Asia orientale, nell'antichità, nascono tre grandi civiltà. In India, la prima civiltà nasce lungo il fiume Indo, ma poi nel 1600 a.C. viene travolta dall'arrivo degli Arii. In Cina, la prima civiltà si stabilisce lungo il fiume Giallo, e poi nel III secolo a.C. nasce il primo grande impero unito sotto la dinastia Qing. Anche in Giappone, la civiltà è molto antica, ma solo nel VI secolo d.C. si forma un impero. Passa ora all'Asia centrale. Qui nel 1206, Gengis Khan unifica tutte le tribù mongole e in breve tempo conquista molti territori, dando vita all'impero mongolo. Quest'ultimo raggiunge il suo massimo splendore nel 1276 con Kubilai Khan, che una volta completata anche la conquista della Cina, sposta la capitale dell'impero a Pechino. Concludi il discorso parlando del Medio Oriente, dove nel XV secolo nasce e si consolida l'impero ottomano. La freccia ti mostra in che modo. Nel 1453, infatti, il sultano Maometto II conquista Costantinopoli, provocando la caduta dell'impero bizantino, un evento che ha un grande impatto su tutto il mondo occidentale.